Si chiama Azienda Zero ed è l'ente di governance della sanità calabrese. È stato approvato nel corso dell'ultimo consiglio regionale, che si è protratto fino a tardanotte, il progetto di legge denominato Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria. Un modello già realizzato in altre regioni come il Lazio ed il Veneto, che svolgendo quelle funzioni complesse per le aziende sanitarie, ne snellisce il lavoro. Proponiamo la possibilità di istituire l'azienda che accentrerà le funzioni amministrative, ha detto il Presidente Occhiuto, facendo rimanere in tonso però il sistema delle aziende territoriali. Ma prevedremo invece l'implementazione di questa azienda attraverso atti successivi, che certo io vorrei concordare con quelli che sono nella disponibilità e hanno la volontà di darci dei suggerimenti. Una proposta questa, approvata a maggioranza, ma che non ha lasciato in silenzio il capogruppo del PD, di cui è stata bocciata la proposta di un rinvio dell'esame per un approfondimento sul testo. Il problema è che questo tipo di soluzione è stato creato in quelle regioni dove il sistema sanitario è funzionante, ha detto infatti Nicola Irto. Nel nostro caso non sappiamo verso quale modello di sanità si vuole andare e il Consiglio deve poter discutere proprio su questo.